Radio Radicale siamo col Presidente dei Deputati di Forza Italia Paolo Barelli per parlare dell'alluvione. Allora io le volevo chiedere lei come ha trovato questa polemica che è stata rintuzzata dalla Presidente del Consiglio sulla nomina del commissario. Allora la Meloni ha fatto un ragionamento abbastanza chiaro. Allora prima ci occupiamo dei finanziamenti e poi a giugno verrà il commissario. Come giudica un po' la fretta di qualcuno? La fretta per creare polemiche è bassa in quanto in questo momento sono ancora intere popolazioni sotto l'acqua con tutti i rischi del caso dal punto di vista igienico oltre che la sicurezza proprio personale di ognuno di questi cittadini e aziende che sono ancora nel fango. Per cui in questo momento il governo si sta interessando di dare i soccorsi immediati alla popolazione. Poi ci sarà il momento in cui saranno prese le decisioni della ricostruzione che comporterà assolutamente una regia anche del centro perché stiamo parlando di un'intera regione o quasi un'intera regione. Quindi su questo credo siano polemiche che non hanno nessun senso. A noi ci interessa la sicurezza dei cittadini. Qualcuno della Lega dice che Bonaccini ha troppi incarichi e che quindi quello di commissario... Ma io non lo so adesso... C'è stato Jacopo Morrone che è romagnolo... Non lo so, ci sarà un momento in cui bisogna prendere decisioni. In questo momento bisogna dare rispetto a queste popolazioni, aziende, agricoltori che sono veramente in ginocchio e questo è l'impegno giorno e notte che sta prendendo il governo grazie ai volontari, grazie alla protezione civile anche regionale ovviamente che si sta attivando insieme a tutte le forze dell'ordine istituzionale per riportare diciamo almeno allo sfangamento delle zone, togliere l'acqua, mettere in sicurezza e dare conforto ai cittadini che ormai sono da settimane piegati da questo dramma. Poi ci sarà il momento in cui si parlerà del riorganizzare e organizzare la ricostruzione. Senta, c'è il rischio di infezioni o comunque c'è un allarme dell'ultima ora che insomma dove si parla della possibilità di evacuare le persone proprio da quei territori per il rischio di tetano o di altre... È chiaro e evidente che ci sono dei problemi, sono delle intere zone ancora sott'acqua. L'ha detto Bassetti che c'è... Penso che sia evidente che bisogna riportare subito alla normalità quindi togliere l'acqua dalle zone che sono ancora allagate se no rimangono acquitrini l'estate ormai è arrivato il caldo pure quindi insomma io credo che bisogna rapidamente svolgere queste operazioni so che i drovori arrivano a tutta l'Italia per togliere l'acqua in queste vaste zone e quindi tutti i presidi sanitari e medici sono in funzione quindi su questo si prenderanno tutti i provvedimenti del caso. L'ultima domanda, pensa che è soddisfatto dell'atteggiamento dell'Unione Europea? Queste calamità, ahimè, non sono accadute solo in Italia ma anche in altri paesi, luoghi, zone dell'Europa e quindi è corretto che la Comunità Europea si interessi a noi e il rapporto al di là che i polemici strumentali dicono i rapporti sono strettissimi l'Europa ha bisogno dell'Italia, l'Italia ha bisogno dell'Europa e anche in questa occasione si è visto con la visita di ieri del Presidente della Commissione un interesse che noi diamo per scontato e una volontà nell'interesse dell'Europa che si ripristini appunto alla normalità. Grazie Paolo Barelli Grazie Paolo Grazie Ciao